Gentili telespettatori, buona giornata. Salgono ancora i contagi, ma possiamo parlare di una nuova ondata, di un rimbalzo. Lo capiremo probabilmente tra 7-10 giorni. Perché tutto questo? Intanto i contagi stanno risalendo, anche gli indici RT-positività sono in risalita. Quando l'Italia è ormai a poche settimane, tre settimane dalla fine dell'emergenza, che sarà il prossimo 31 di marzo e non verrà rinnovato dopo finalmente due anni, il rapporto dei dati con quelli di 7 giorni fa non è positivo e indica che il virus continua a circolare in maniera abbastanza forte, anche se fortunatamente non si riflette sui ricoveri in ospedale, grazie all'alto tasso di vaccinati e guariti. Quindi circola fortemente, ma negli ospedali i numeri scendevano. Adesso stanno un po' risalendo. Bisogna capire se sono delle piccole gobbe, come dice qualche virologo? Beh, il bollettino di ieri, l'ultimo disponibile, parla di 54.000 contagi. La settimana scorsa erano 41.500 e 85.787 guariti. I tamponi sono stati quasi mezzo milione, 453.341. Il numero dei contagi in sé non contestualizzato non significa nulla. Bisogna vedere, perché dipende da quanti tamponi si fanno. Se i tamponi erano un milione, i contagi sarebbero stati 108.000. Se i tamponi erano 2 milioni, i contagi sarebbero stati 216.000. Quindi non è il contagio in sé che indica qualcosa, ma è la percentuale dei tamponi trovati positivi sul numero totale dei tamponi. È questo tasso di positività che dà questo sentore, che è al 12% più 0,8 rispetto a ieri, che era all'11,2 e più 2,4% rispetto a 7 giorni fa, che era al 9,6, balzato in 7 giorni al 12%. Vuol dire che su 100 tamponi fatti, oggi 12% sono persone positive. Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione continua a rimanere sotto controllo. Il saldo dei ricoverati nei reparti covid è meno 724, 8.414 posti letto attualmente occupati, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è meno 18, 545 a fronte di 48 nuovi ingressi. Perché questi numeri, il meno 724 dei reparti covid è la somma tra chi entra e chi esce. Meno 724 vuol dire che ci sono state molte più persone che sono uscite. E questo anche nelle terapie intensive che scendono a 545. Solo un mese fa erano a 1.700 e nei reparti covid si arrivava quasi a 20.000. Pertanto i numeri sono assolutamente confortanti. C'è un nuovo aumento dei casi covid più 1,5. Il presidente Cartabellotta stima che in 7-10 giorni questo è il tempo per capire se l'incremento sia l'inizio di una nuova ondata o un semplice rimbalzo. La priorità rimane quella di provare a convincere gli oltre 4,5 milioni di persone che non hanno ancora ricevuto la prima dose, dicono. Ovviamente chi non ha ricevuto la prima dose ancora oggi non credo che sia poi così intenzionato a fare la prima dose di vaccino, nonostante siano arrivati dei vaccini nuovi, come si chiama quello Novavax. Ecco però non ha, pensavano, qualche ingenuo pensava che un nuovo vaccino con caratteristiche diverse avrebbe convinto il vero Novavax, quello ideologico, perché di quelli che sono rimasti adesso c'è una grande componente di quelli del no ideologico e poi l'altra componente sono quelli che hanno paura. Quindi gli indecisi hanno poi già deciso, ecco. Pertanto intanto vi racconto che dal governo arriva il primo sì allo ius scolae, ma il centrodestra si divide perché in commissioni affari costituzionali ha dato il primo ok a questa proposta. A favore Forza Italia votano contro Lega e Fratelli d'Italia, quindi il centrodestra si è diviso su questo. Bisogna capire intanto di che cosa realmente si tratta in questo ius scolae, qual è il nucleo della legge perché cittadinanza più facile, ma così è troppo semplice parlare di cittadinanza più facile, ma di questo ne parleremo anche in un video dedicato solo a questo fenomeno. Intanto a Di Martedì, che si svolge martedì sulla 7, Alessandro Di Battista, ha detto il cechevara di Roma Nord se la prende con Mario Draghi, dice è un cartonato e poi lo paragona ad una pecora. Non c'è niente da ridere comunque. Dice Di Battista che lui è contrarissimo a tante cose che si stanno facendo oggi in politica internazionale, al comportamento dell'Italia, di come si sta muovendo, ma lui è il cechevara di Roma Nord, ovviamente, ha una certa linea di pensiero. E poi dice che io credo che il Presidente del Consiglio si stia comportando come un cartonato, non viene considerato all'estero. Probabilmente perché l'Italia oggi si sta comportando in maniera più imperialista dell'impero, più realista del re. Ma cosa vuol dire? Beh, insomma, diciamo che ci sono tre le più importanti economie in Europa, c'è prima la Germania, poi la Francia e poi l'Italia. Queste sono a scalare come forza economica. Pertanto spesso parlano solo con Germania e Francia, non per escludere l'Italia, ma perché parlano con le prime due economie europee. Potrebbero parlare con le prime tre, ma parlano con le prime due. Poi c'è Spagna e tutte le altre, il totale dei 27 Paesi. Questo è il motivo. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qui su questo canale, se no ci troviamo tra una ventina di minuti su Tele Italia Seconda Rete dove c'è anche lì un video di politica, mentre poi questi video dei due canali Tele Italia e Tele Italia Seconda Rete vengono condivisi poi su Facebook dopo qualche ora. Arrivederci a tutti e grazie.